Con GTA 6 ci siamo lasciati nel 2019 e con GTA 6 riapriamo sul mio canale il nuovo anno Infatti ragazzi oggi andremo a parlare oltre a qualche nuovo rumor su GTA 6 di molte notizie Come sicuramente avrete letto dal titolo che cercherò di portarvi in questo video e analizzare in modo tale da poter stare tranquilli Perché alcuni si sono un po' agitati con queste notizie ma state tranquilli ragazzi adesso cercheremo di razionalizzare il tutto Allora partiamo con GTA 6 non c'è da dire tantissimo su GTA 6 ma molti fan di CJ avete presente il mitico personaggio di GTA San Andreas Tra l'altro il mio GTA preferito Molti fan pensano che ci possa essere un ritorno di CJ in GTA 6 E quindi molte persone sono andate sui social hanno trovato il doppiatore attore di CJ ovvero Young Melee E diciamo che hanno scritto hanno commentato e gli hanno chiesto ma tu ci sarai in GTA 6 ci sarai in GTA 6 E ovviamente ragazzi è arrivato un punto che questo mitico CJ si è rotto un po' il cazzo E attraverso un post ha detto diciamo la sua ecco ma in modo molto molto offensivo a mio parere Nei confronti di Rockstar Games c'è stato proprio un dissing nei confronti di Rockstar Games Mamma mia sto facendo gossip per quanto riguarda Rockstar In pratica che ha scritto non voglio mancare di rispetto a Dan Houser ovvero ragazzi colui che ha creato GTA Ma quelli di Rockstar Games possano ingoiare il c***o di un tossico Non avrò più a che fare con loro quindi poniamo fine ai rumor Ovvero il rumor di un suo ritorno in GTA 6 eh che sia chiaro Sono solo dei figli di Troia, voltoi di Londra che incassano miliardi grazie ai neri di Los Angeles E non vediamo neanche il 10% di quei soldi Allora ora far ridere come ha scritto no? L'offesa comunque è abbastanza pesante ragazzi Ma non so ora sinceramente che problemi ha avuto questo con Rockstar Games Ora la sta girando ai soldi no? Ma cioè qui mostra veramente un vero e proprio odio nei confronti di Rockstar Games E io penso che comunque all'epoca quando ti hanno detto Senti caro caro come cazzo si chiamava Melee Vuoi fare un gioco con noi? Vuoi essere il personaggio principale? Io penso che lui abbia prima di tutto stipulato un contratto In cui sicuramente c'era scritto il potenziale guadagno Comunque il guadagno derivante da quell'esperienza con Rockstar Games Quindi perché lamentarsi adesso dopo tanti anni non lo so Tra l'altro non è l'unico che si è lamentato Se non sbaglio si è lamentato anche il doppiatore di Versetti Anche se comunque io non voglio giudicare niente a nessuno Perché non so ora questa azienda come paga realmente i propri dipendenti Ma cioè su tanti casi solo due si sono lamentati Tra l'altro CJ quindi il doppiatore di CJ Non ho visto per esempio doppiatori o comunque protagonisti di Red Dead Redemption a lamentarsi Poi Rockstar Games che era nel 2004 non è Rockstar Games che è oggi Perché nel 2004 magari i guadagni erano molto di meno rispetto ai guadagni di adesso Ora non voglio giustificare Rockstar Games Ripeto io sono imparziale in quanto non so benissimo come Rockstar paga o tratti i suoi dipendenti Però io penso che diciamo questo melee abbia sostanzialmente un odio profondo in Rockstar E si sa quando tu odi qualcuno trovi sempre il punto per colpirlo Trovi sempre una scusa per offendere o colpire qualcuno Però sostanzialmente ragazzi abbiamo comunque confermato che CJ non ritornerà neanche in GTA 6 E dubito che ovviamente a sto punto lo rivedremo in futuro C'è un'altra notizia che diciamo appena è scattato il 2020 è uscita fuori sostanzialmente In pratica questo nuovo rumor nasce da un utente chiamato TheNatanNS Che sostanzialmente su Twitter ha pubblicato un rumor molto molto pesante Che addirittura parla della chiusura di Rockstar Games Quindi il chiamiamolo fallimento ma non è neanche fallimento È proprio chiusura di Rockstar Games dopo l'uscita di GTA 6 Ora vi spiego perché sta questo rumor e poi vi dirò ovviamente la mia In pratica quest'utente TheNatanNS ha mostrato su Twitter Uno stralcio di una lettera che Rockstar Games secondo lui ha inviato ad un suo dipendente Per informarlo della volontà dell'azienda di chiudere Appunto definitivamente dopo l'uscita di GTA 6 Secondo quest'utente Rockstar ha scritto nella lettera che GTA 6 sarà il gioco più grande È il gioco migliore che loro abbiano mai creato E questa notizia mi fa un po' ridere Dice che in pratica loro abbandoneranno l'attività perché non riusciranno Saranno incapaci di superare questo limite ovvero GTA 6 Cioè in pratica è come se io stessi creando GTA 6 Dico questo è il miglior gioco del mondo non riesco a fare di meglio Chiudo l'azienda Sostanzialmente ragazzi se ci pensate non ha senso Perché è impossibile Prima di tutto perché ormai siamo in un mondo in cui l'innovazione è continua Immaginiamo Apple ha fatto l'iPhone 11 Sì siamo all'iPhone 11 giusto? Sì Apple ha fatto l'iPhone 11 È spettacolare ragazzi È impossibile fare qualcosa di meglio Apple chiude perché non riesce a fare un iPhone 12 Cioè è una cosa impossibile Perché il progresso tecnologico permette comunque di fare l'iPhone 12 E così ragazzi anche per quanto riguarda Rockstar Games Come per tutte le aziende di videogiochi o di qualsiasi altro tipo Che riguarda per esempio la tecnologia Cioè è impossibile come cosa È una cazzata sub enorme Tra l'altro sempre secondo questo rumor GTA Online si concluderà quest'anno nel 2020 Quindi verrà chiuso GTA Online in quest'anno perché GTA Online non ha avuto più tanti incassi come prima E quindi sostanzialmente bisogna chiudere GTA e il supporto di GTA Perché diciamo non ha raggiunto quelle che erano le avvenzioni di Rockstar Games Anche questa altra cazzata perché GTA 5 ha venduto 15 milioni di copie nel 2019 L'ultima espansione che riguarda il casino Diciamo ha riportato tanti utenti che non avevano diciamo abbandonato ma avevano messo da parte GTA Online Quindi me per esempio io con il nuovo DLC sono rientrato nuovamente in GTA Online E addirittura ha portato molte visualizzazioni sia su YouTube che su Twitch Tra l'altro su Twitch le visualizzazioni si sono triplicate Almeno leggo così dal sito di Avery Eilis State tranquilli non ci sarà questa chiusura di Rockstar Games È una cosa impossibile Mi raccomando ragionate sempre prima di leggere una notizia Ovviamente può sembrare una cosa strana ed è una cosa strana Io quando l'ho letta sinceramente mi ha fatto un po' ridere perché è un po' strana come cosa Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti Grazie a tutti